ciao sono il dottor max benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in italia in questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano nella lista troverai i nomi delle farmacie i loro indirizzi completi i numeri di telefono e codice della farmacia al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te in questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano a misano adriatico in provincia di rimini in emilia romagna farmacia comunale san biagio misano monte via saffi 64 telefono 0 5 4 1 6 0 2 0 1 6 codice 16.722 farmacia misano succursale via nelson 48 località calle pescatori codice 17.809 farmacia misano dei dottori costa deluca snc via tavoleto 2 telefono 0 5 4 1 6 1 1 0 5 0 codice 7410 farmacia s antonio succursale via alperello 28 b località brasile codice 17.806 farmacia sant'antonio rossi maria rita e compagni snc via repubblica 48 telefono 0 5 4 1 6 1 0 5 4 9 codice 7378 a misano adriatico non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità soprattutto in momenti di necessità o emergenza ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse il dottor max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te e ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno la tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura questo canale potrà esser più utile in futuro ti consiglio di iscriverti grazie ancora per l'attenzione buon proseguimento